Come sempre abbiamo cercato di proporre dei programmi da un lato popolari, da un lato che sappiamo possano soddisfare le esigenze e i desideri del pubblico e dall'altro anche rendere il pubblico un po' curioso, per esempio il brano di Panfili insieme alle grandi opere di Respighi, la quinta sinfonia di Mendelssohn che è una sinfonia poco eseguita, una sinfonia di Nielsen, che è un autore non molto eseguito al di là dei confini scandinavi, quindi cerchiamo di offrirvi cose conosciute, il concerto di Brahms, cose meno conosciute e penso che questa sia una buona combinazione che rende il nostro pubblico curioso da un lato e spero sempre più affezionato, quindi venite ai nostri concerti, ne vale la pena, stiamo presentando delle cose molto belle.